Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale. Oggi vedremo insieme il metodo più corretto e anche più veloce per tirare una ridge line e per fare un piccolo riparo di emergenza con un tarpo o con un poncio. Secondo me è davvero importante essere in grado di fare velocemente un piccolo riparo dalla pioggia, dai temporali che sia ovviamente veloce da fare ma che sia anche abbastanza resistente. Quindi vedremo insieme quello che secondo me è il metodo migliore per allestire questo tipo di piccolo riparo che ti può aiutare e che io ho usato tante volte in tante situazioni diverse per temporali improvvisi o anche quando ero nel bosco con i figli per una pioggia improvvisa è veramente molto comodo. Per farlo ovviamente non servono chissà che materiali, semplicemente quello che normalmente in un'uscita sia sia più lunga sia anche più breve o con la famiglia avrete sicuramente dietro, ovvero un poncio o un telo di emergenza, una coperta termica di quella di emergenza, va bene un po' tutto in questo caso qua, e un po' di cordame. Per prima cosa ovviamente tireremo la nostra ridge line a livello del petto tra questi due alberi. Se avete una matassa di corda avvolta come vi ho insegnato in un altro precedente video sarà estremamente facile e veloce farlo. Per prima cosa fisseremo un capo della corda a questo albero. Per farlo avvolgeremo semplicemente il capo con la gassadamante della nostra corda intorno all'albero e poi possiamo o passare all'interno tutta la nostra matassa oppure ancora più semplicemente passare solo un'asolina di qua, inserire un bastone che ovviamente deve essere resistente e tendere il nostro capo. Questo sistema con il bastoncino ha un grosso vantaggio che una volta che io voglio svolgere il tutto basterà estrarre il bastone e tutto quanto si disferà. Dall'altro lato sempre alla stessa altezza faremo un nodo che sia in grado di tirare in modo robusto la nostra corda. Qui faremo un nodo di tiraggio piuttosto famoso che si chiama Tracker Seach, il nodo del camionista. Lo faremo in un modo che sia facile anche da sciogliere dopo. Passeremo la nostra matassa intorno all'albero in questo modo e qui andremo a fare il nodo. In realtà è molto semplice, basta tirare indietro con una forma di S dalla parte dove è già ancorato, dopodiché si fa entrare nell'asola che si forma e questo è un nodo che da un lato si tira dall'altro invece se io tiro si disfa. Una volta che abbiamo creato la nostra asola passiamo dentro la corda in doppio così e andiamo a tendere. Come vedete si forma una sorta di carrucola che mi permette di tendere molto il mio filo. Tiriamo la tensione voluta, blocchiamo con le nostre dita e facciamo un'asola doppia in modo che sia facile da disfarla. Per essere sicuri di non andare accidentalmente a smollarla gli si inserisce un semplice bastoncino e si va a tendere dall'altro lato. In questo modo tutto è teso. Se io vado a tirare vado a disfare tutto quanto. Una volta tesa la ridge line andiamo a metterci la nostra copertura, nel mio caso un semplice poncio. Andremo a fare un nodo di prusik che ci aiuterà poi a mettere in tensione. Possiamo usare direttamente i cordini che sono di solito attaccati al poncio. Lo si mantiene doppio e si va ad avvolgere. Una, due, tre volte canonicamente. Più il prusik aspire e più terrà. Il nodo di prusik è un nodo particolare derivato dall'alpinismo. Finché è morbido può scorrere sulla corda. Quando viene messo in tensione si blocca. Questo ci aiuterà a tendere il nostro telo. Per fissare questo prusik direttamente al nostro poncio semplicemente passiamo un capo per l'occhiello e poi andiamo a fare un semplice nodo di giunzione. Facciamo un altro prusik dall'altro lato allo stesso identico modo. Poi infiliamo sempre all'interno del nostro tarp. Facciamo anche qui una giunzione semplice ed ecco che potremo in modo semplice andare a spostare i due nodi e quindi la posizione del tarp e dopo a tenderlo semplicemente tirando i due nodi. E il tarp è teso. Per andare a completare la struttura adesso è sufficiente andare a picchettare gli altri due lati. Si possono usare dei bastoni dei picchetti fatti direttamente in bosco oppure per velocizzare si possono usare dei classici picchetti in acciaio. Io consiglio sempre di portarne un paio che non si sa mai che terreno si trova cosa si trova pesano poco sono resistenti e ti possono aiutare in tante situazioni tipo questa. ed ecco qui in un minuto realizzata la nostra struttura che sarà resistente ben tesa e potrà resistere al vento alla pioggia. Ovviamente si può fare girando il tarp da una parte o dall'altra e alzando e abbassando la ridge line di qualsiasi forma serve. Il bello di questa struttura è che con poco tirando via i picchetti tirando via i paletti tirando le corde in pochi secondi ti riviene tutta l'attrezzatura in mano e ti sei liberato. Ragazzi per oggi è tutto spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi qualche commento sotto fatemi sapere cosa ne pensate ciao alla prossima